Credo che sia stata una vittoria molto meritata contro un avversario importantissimo, sapevamo che squadra è il Casarano, non lo scopro io, di certo lo sappiamo tutti quanti, e vincere dà un significato molto importante a questa partita. Complimenti ai miei ragazzi che hanno interpretato al meglio quello che sono stati dettami tattici, tecnici, poi come dici giustamente tu ci siamo anche adeguati a quello che è il campo perché è un imprevisto, non si sapeva che si pioviva, un campo allentato, ma abbiamo veramente disputato una grande partita colpo su colpo e siamo contenti di questa vittoria molto importante. Penso che sia stata una gara condizionata sicuramente dal terreno di gioco, dal brutto terreno di gioco, il terreno di gioco sicuramente non è adatto alle nostre caratteristiche, al nostro modo di giocare, questo non toglie che sicuramente abbiamo commesso degli errori in situazioni soprattutto di gol, e poi non siamo stati bravi a reagire quando poi siamo rimasti anche in dieci, anche se mi sembra un attimino strana la decisione dell'arbitro perché erano nettamente in linea e c'erano altri tre giocatori dietro, l'uomo che aveva fatto fallo però, ha fatto questa scelta, purtroppo ci dispiace perché mi andate la partita, i ragazzi hanno dato il massimo, dobbiamo rialzare la testa e dobbiamo arrivare a lavorare.